Vorrei approfittare ora di questo momento per chiedere scusa innanzitutto agli amici che ci seguono dallo streaming per questa lunga pausa, ma abbiamo fatto un giro, una visita di questa che è l'azienda che ringrazio, l'azienda di Angelo Capurso, qui la mia ama Carvotta. Vorrei ricordare che a quanti vogliono possono ricevere del materiale che ci lascerà il docente di oggi e anche agli amici dello streaming magari possono inviarci la mail, il loro indirizzo mail e poi ci leggeremo il materiale in pdf del dottor Cesari. Allora, io volevo dedicare Dulcis in fundo con un approfondimento, con una tematica che sta sempre più diventando interessante dal punto di vista della ricerca, della valorizzazione della biodiversità e soprattutto della gastronomia, di una gastronomia che ha delle capacità, diciamo, se vogliamo curative. Allora, voi sapete benissimo, o meglio, è bene ricordare che fino al 1700, alla fine del 1700, all'inizio del 1800, la cura farmacologica era prevalentemente basata sulla conoscenza e l'utilizzo delle erbe. Infatti, voi avete uno splendido esempio della spezzeria. Perché spezzeria? Perché la farmacopea si basava sulla gestione, la conoscenza, l'utilizzo delle erbe e delle spezie. Ovviamente, è inutile dire che l'industrializzazione, la chimica, la conoscete benissimo, insomma, quella che è stata l'evoluzione, diciamo che nel 1900 c'è stata questa esplosione che era iniziata già nel periodo positivista, alla fine dell'Ottocento, l'esplosione della cura, l'utilizzo della cura, la sintesi anche di sostanze per la cura delle malattie, ha un pochino messo in ombra questa conoscenza, questa sapienza, che però c'è da dire in alcuni paesi, in particolar modo in Germania e in Francia, è una tradizione, anche in Svizzera, è una tradizione che continua a essere curata. Il mercato più importante dei rimedi fitoterapici e l'utilizzo dei rimedi fitoterapici è Germania e Francia. Si può dire che un tedesco su quattro, c'è una valutazione che veniva fatta da un esperto, preferisce curare le proprie malattie prevalentemente con prodotti che derivano dalla elaborazione di erbe officinali. Ovviamente la fitoterapia, quindi il fitocomplesso, è un quel tipo di studio che può essere validato scientificamente, perché il contenuto di un fitocomplesso è oggetto di analisi, è oggetto di analisi anche approfondita. Giusto per fare un esempio, un progetto settimo programma quadro per la cura della malaria in Africa ha dimostrato che a maggiore funzione, a maggiore effetto, tra l'altro c'è l'edimento anche all'Università del Salento, a maggiore effetto un decotto di Artemisia annua, che è una pianta con delle grandi capacità curative, soprattutto per il plasmodio della malaria, che non l'estratto. Se io dovessi prendere l'artemisinina, estrarla da uno stabilimento farmaceutico e darla a un malato di malaria, non avrei lo stesso effetto che dargli il decotto. Per cui in Africa, in Uganda in particolar modo, hanno sviluppato con questa ricerca l'uso, la consuetudine della produzione familiare di Artemisia annua e l'utilizzazione del decotto. Perché faccio questa premessa? Perché in realtà, in passato, la conoscenza delle proprietà di queste erbe e l'alimentazione avevano un nesso molto stretto. Giusto per fare un esempio, nella tradizione delle nostre donne che raccoglievano le olive, le olive venivano raccolte per terra, prevalentemente, cioè si andava lì e c'erano le donne che raccoglievano. Queste donne avevano anche una sacca particolare di tela che serviva per raccogliere le erbe spontanee. Cioè, mentre si andava a fare questo lavoro, si raccoglievano le erbe spontanee, si arrivava a casa con chilogrammi di biomassa di varie specie, di specie diverse. Chiaramente c'era una grande consapevolezza, conoscenza tramandata di generazione in generazione sulla caratteristica delle varie piante spontanee, la caratteristica anche curativa. Quindi non solo alimentare, ma anche curativa, o entrambe. E questa era un'altra caratteristica che noi abbiamo perso nell'alimentazione e nell'abitudine alimentare. Cioè la possibilità di nutrirsi con piante eduli spontanee, se vogliamo chiamarle selvatiche, perché non sono state mai, almeno fino ad oggi, caratterizzate e utilizzate. Abbiamo qualche, diciamo, derivato, come per esempio la cicoria deriva da piante selvatiche, da specie selvatiche, o anche parlavamo delle crucifere. Però, diciamo, c'è ancora questo grande potenziale che può essere esplorato e può essere valorizzato dal punto di vista proprio della cura della biodiversità, di una biodiversità che non si può definire agrobiodiversità, perché è una biodiversità naturale, ma che comunque può avere un ruolo importante dal punto di vista dello sviluppo economico. Difatti, giusto per intenderci, quando nel periodo dei Lumi, nella fine del Settecento, ci fu questo grande slancio enciclopedico, fu coniato un termine che molti non conoscono, ma è bene reintrodurre, che è lo studio dell'alimurgia, le piante alimurgiche. Qual era l'obiettivo di questo studio? Razionalizzare la conoscenza di queste piante spontanee, in modo tale che in periodi di carestia la popolazione più povera avesse degli strumenti di conoscenza per cercare, caratterizzare, riconoscere e nutrirsi con queste piante selvatiche spontanee. Allora, perché introduco questo elemento? Perché noi comunque viviamo in un territorio che è ricchissimo di questa biodiversità. È ricchissimo di questa biodiversità solo a pensare che cosa ci potremmo scoprire, e in parte è stato scoperto nelle gravine, nelle gravine della terza, c'è il professor Giannico che ha fatto quel bel volume con fotografie che descrive tutta quanta la presenza di flore e fauna. Ed è sicuramente per noi un grande vantaggio, perché questa grande biodiversità di queste specie che, ripeto, derivano da specie presenti, ma anche specie che sono state importate, che si sono evolute spontaneamente, selvaggiamente, può essere un grande vantaggio per quello che è l'appeal dei nostri prodotti agroalimentari. Io posso dirvi che forse una delle cose che è rimasta più impressa nella mia memoria da bambino e anche come gusto, era mangiare fave con le cicorielle di campagna, cicorielle selvatiche. Voi sapete benissimo, non hanno nulla a che vedere con le cicorie, con la cicoria catalogna, è anche un sapore completamente diverso. In realtà quella cicoriella di campagna non era una tipologia, veniva chiamata, con cicoria selvatica, veniva chiamata una serie, una varietà, di diverse varietà di questo tipo di piante. Allora, questo è un tipo di biodiversità che va sicuramente recuperata. Va sicuramente recuperata, va anche razionalizzata. Ed può essere il tratto identitario che caratterizza la nostra alimentazione. Nel Salento è già stato fatto un lavoro molto approfondito su questo, sia dal punto di vista del recupero e della classificazione di queste piante, sia dal punto di vista del recupero delle tradizioni alimentari, di gastronomia. Ci sono delle insalate che venivano fatte con un mix di queste piante selvatiche. Chiaramente avevano tutte quante anche dei effetti curativi. Anche qua, nell'incontro che abbiamo fatto con queste mamme, i ragazzi delle scuole medie a Castellaneta, appena abbiamo introdotto questo elemento, subito è arrivata la memoria, è risalita la memoria, il fatto che il padre di una signora si cura dal problema dei reni, andando a trovare quella pianta in campagna. Quindi voi tranquillamente potreste, potete tranquillamente fare anche un lavoro di ricerca etnografica con i vostri anziani, con i vostri parenti, gli amici, roba varia, per incominciare a dire ma avete presente qualche cosa, e cominciare a fare questo lavoro di recupero. Io questa è una cosa che ho voluto lasciare un po' alla fine, come sollecitazione, anche impegno a un appuntamento che può vedere proprio il CEA, che ha questa funzione anche di contatto tra la tutela del territorio e anche la valorizzazione della biodiversità. Ed è sicuramente un tipo di alimentazione, un tipo di trattazione del modo di alimentarsi, che rientra pienamente, anzi a pieno titolo, nella tradizione dell'alimentazione mediterranea, che sicuramente può avere un grosso appeal con queste popolazioni, con i cittadini, queste nazioni che hanno a cuore questo tipo di cura. Cioè, voglio dire, se noi immaginiamo, dovessimo immaginare, per essere molto pratici, l'ipotesi di promozione di questo territorio, che tra l'altro, tra il parco dell'Alta Murgia, che ha adesso la carta del turismo sostenibile, e quindi è rientrato in un discorso di certificazione europea di un certo livello. Il vantaggio enorme che avete in questo territorio nella prospettiva di Matera 2019, considerate che questo è l'inizio di un investimento territoriale, Matera 2019 ha vinto anche perché ha coinvolto e ha considerato come territorio da valorizzare, territorio che arriva quasi fino a Bari. Quindi, anche se Matera è il soggetto, in realtà il territorio che viene investito è questo territorio qua. Da parte di questi, diciamo così, potenziali turisti, che hanno a cuore, oltre all'alimentazione mediterranea, anche questa riscoperta della conoscenza, della cura con le erbe officinali e le erbe spontanee. Ripeto, il nesso, cioè il significato, è veramente una sfumatura, perché non sappiamo dove finisce la fitoterapia e dove inizia l'alimentazione alimurgica, se ho dato l'idea. È una cosa molto interessante da questo punto di vista. Come del resto, la fitoterapia può essere considerata un derivato dell'alimentazione, o meglio, l'alimentazione di cui stiamo parlando, della dieta alimentare mediterranea, in realtà è una forma di fitoterapia alimentare. In questo libro che adesso vi manderò tramite pdf, curato da un istituto di ricerca, il De Bellis, vedrete che ci sono anche degli articoli che studiano questi nessi. C'è il professor Mario Chiechi, dell'Università di Bari, che scrive qual è il nesso importante tra questo tipo di alimentazione da piante spontanee eduli, la presenza dei fitormoni e la tutela delle malattie femminili. Quindi, come vedete, ci sono tanti di quei collegamenti che non sono più solamente trattazioni di tipo etnografico, ma sono diventate strumento, oggetto di studio scientifico e anche di razionalizzazione. Quindi, questo tipo di biodiversità è estremamente importante. Io spero che in futuro, perché noi abbiamo iniziato ad avere un eccellente incontro e rapporto con persone che se ne stanno occupando a livello nazionale da diversi anni. In particolar modo, c'è una validissima esperta nel settore della fitoterapia e anche conoscitrice della limurgia che è la dottoressa Esposito e di Varese, che vive da parecchi anni qua in Puglia, con la quale stiamo incominciando a intraprendere un percorso di ricerca integrata anche con nutrizionisti e medici che si occupano di nutrizione, di cura della fitoterapia. Insieme a questo complesso di valorizzazione della biodiversità, che non è solo biodiversità, come abbiamo detto, di tipo botanico, ma è biodiversità anche dal punto di vista culturale. Cioè, insieme a questo recupero, come considerate questo insieme, che si sposa e è legato direttamente col territorio, si sta incominciando a ragionare direttamente anche su quella che può essere una scienza del benessere, una scienza del cambiamento delle abitudini alimentari e dei comportamenti, anche per la cura di malattie gravi. Determinati tipi di abitudini alimentari, cioè reintrodurre un'abitudine alimentare in malati di tumore che hanno avuto interventi, cure per prevenire le recidive, è diventato un fattore molto importante. Giusto per avere un riferimento che forse è più conosciuto perché è più mediatico, ma non è il solo, c'è tutta l'esperienza della cascina rosa di Franco Berrino, il professor Berrino, cioè dell'epidemiologo, il dottor Franco Berrino dell'Istituto Tumori di Milano. Qual è stata l'intuizione? Un epidemiologo nutrizionale come Franco Berrino, oramai in pensione, ha incominciato a studiare il nesso tra malattie tumorali e alimentazione e ha incominciato a studiare quella che poteva essere il tipo di alimentazione, un cambiamento dell'abitudine alimentare per tutelare e prevenire il rientro con recidive di questi malati in una situazione di questo genere. I risultati sono stati risultati di studi di diversi anni molto importanti, per cui ha notato che il cambiamento alimentare, la reintroduzione in certi alimenti con una forte prevalenza della presenza di varietà tradizionali, vegetali, il cambiamento soprattutto dello stile di vita alimentare porta alla cura dei malati di tumore, cioè c'è una ricaduta con recidive molto ma molto inferiore rispetto a chi continua ad alimentarsi nella stessa maniera. Quindi come vedete l'alimentazione diventa non soltanto un piacere, quello lo è sempre, soprattutto il fatto di avere la possibilità di gustare vari tipi di alimenti ma soprattutto una forma molto importante di prevenzione e anche in questo caso di cura. E quindi il nesso che si sta con la ricerca si sta continuamente portando avanti tra recupero della biovedersità, territorio, alimentazione, gastronomia, ospitalità, considerate facciamo un esempio pratico, questo è un territorio che ha oltre ad avere una grossa potenzialità dal punto di vista territoriale ha anche una grossa potenzialità, un vantaggio rispetto ad altri. In maniera consapevole o meno voi a Castellaneta Marina avete un polo turistico con una grandissima capacità di ospitare, cioè ci sono un sacco di posti letto. Chiaramente probabilmente è mal interpretato fino ad oggi ma se voi incominciate a considerare che quel potenziale può diventare un potenziale di ospitalità di un turismo di massa che però può fruire di questo territorio attualmente da quello che mi risulta non succede questo cioè i turisti al limite vanno alla reggia di Caserta vanno a Ischia a Capri fanno dei giri che magari sono improbabili ma immaginate che cosa possa voler dire avere un turismo diffuso che è quello che sta caratterizzando in senso positivo l'offerta turistica pugliese con il bed and breakfast l'ospitalità diffusa ma anche un turismo di massa che può garantire la presenza sul territorio di tanta gente che incomincia a conoscere apprezzare e anche creare un turismo destagionalizzato che può dare ovviamente a questo tipo di turismo non ha senso non avrebbe senso incominciare a dare nei vari ristoranti il ragù tortellini alla bolognese che voglio dire che probabilmente fanno parte di un altro tipo di alimentazione ha senso incominciare a lavorare approfondendo questo tipo di conoscenza e di trasferire la nostra biodiversità con la narrazione che noi possiamo fare perché la nostra biodiversità non proviene come in altre situazioni dal nulla ma proviene da secoli di selezione e di conoscenza quale valore aggiunto rispetto a un altro territorio e vi posso garantire che da quelle che sono anche i confronti che abbiamo dal punto di vista del sistema della conoscenza tra le varie regioni la realtà pugliese non solo non ha nulla da invidiare a quella che è la situazione in Toscana e in Umbria ma addirittura sono molti colleghi dalla Toscana e dall'Umbria che invidiano il potenziale pugliese che probabilmente non è ancora stato espresso completamente e quindi ora chiaramente sul discorso della valorizzazione alimurgica e delle piante eduri spontanee e della fitoterapia seppure è un discorso molto interessante è anche un discorso molto più impegnativo perché non stiamo parlando di varietà classificate standardizzate coltivabili stiamo parlando di capacità che devono avere poi delle figure professionali nel riconoscere ed esplorare riconoscere e raccogliere c'è anche un'ipotesi di incominciare a selezionare i semi di queste varietà per incominciare a fare senza stravolgere dal punto di vista delle caratteristiche incominciare anche a fare delle specifiche produzioni ci sono domande? Sì più o meno inerente a ciò che dicevi adesso è quella che può essere diciamo il supporto che il mondo della ricerca scientifica può dare a un ragazzo che magari non è un tecnico di un determinato settore legato all'agroalimentare o comunque alla produzione agricola in genere cioè capire qual è la sinergia che si può creare magari tra i ragazzi e la ricerca e eventualmente come svilupparla questo lo dico perché magari molti amici o ragazzi che ho conosciuto hanno delle idee brillanti magari che però non riescono a portare a frutto perché manca quel supporto magari scientifico allora magari si riuscisse a capire come poter creare un sistema in tal senso magari beh io ti ringrazio per la domanda perché chiaramente mi appassiona particolarmente sicuramente noi oggi stiamo vivendo una delle idee diciamo più più indovinate e felici che sono scaturite dall'esperienza dell'arti che è creare questo laboratorio dal basso cioè un incontro dove noi stiamo dialogando ripeto non può essere non deve essere una lezione universitaria ne tantomeno io mi voglio immedesimare un professore universitario deve essere uno scambio di informazioni e questo però diciamo dà lo start a una serie di idee che devono essere comunque accompagnate allora una delle esperienze più interessanti che sta partendo in questo territorio perché chiaramente contestualizziamolo con questo territorio è la creazione di questa alleanza tra comuni legata strumentalmente all'ipotesi di presentarsi in maniera adeguata con un paniere con presentazione delle potenzialità del territorio all'Expo 2015 diciamo è una vetrina se vogliamo anche controversa come si sta sviluppando però sta avendo il vantaggio di essere un catalizzatore cioè uno stimolo per le comunità a proiettarsi declinandolo su un discorso legato all'alimentazione alla produzione agroalimentare in un'esposizione internazionale questa aggregazione di comuni che si chiama il cuore della Puglia la terza Ginosa Castellaneta Palagianello insomma sicuramente ha un forte protagonismo di quest'area hanno aderito utilizzando quello che è uno strumento di prossimità istituzionale prima ne stavamo parlando nel break che il comune il comune è l'istituzione più vicina al cittadino perché è chiaro che il sindaco e la giunta sono cittadini conoscono i cittadini vivono nella città hanno rapporti è un'istituzione che ha degli strumenti avrà ancora più strumenti perché queste nuove norme che potenziano l'autonomia e le capacità le responsabilità dei comuni possono essere utilizzate poi chiaramente io dico come succede sempre queste sono le potenzialità poi bisogna sapere come declinarle con gli amministratori i decisori che vengono delegati a fare questo però c'è una potenzialità allora l'ipotesi più concreta qual è? quello che stiamo cercando di fare alla terza nello specifico cioè creare anche con strumenti tipo l'antenna pondri ricerca e competitività sono strumenti di facilitazione dello scambio di informazioni è uno strumento di gestione di progetti PON gestiti dal MIUR sostanzialmente che vedono nei comuni nelle istituzioni comunali il luogo la convenzione di luogo dove si incontrano gli stakeholder e il mondo della ricerca quello può essere uno strumento cioè incominciare a interpretare il comune non solo come il luogo dove c'è lo sportello unico l'autorizzazione di roba avare ma anche il luogo dove istituzionalmente ci può essere questo incontro è ovvio che ci deve essere e c'è e sicuramente va sollecitato anche dalla popolazione l'evoluzione di un tipo di un determinato tipo di ricerca che si nell'avvicinarsi direttamente con i fabbisogni del territorio cioè per intenderci l'idea che ha avuto questa azienda felicissima del latte d'asino ha trovato delle persone che hanno saputo interpretare declinare questa idea con l'esigenza territoriale oppure che ne so il fatto di aver avuto comunque un vantaggio perché nella graviera della terza è stato fatto uno studio sulla biodiversità e a voi vi avvantaggio moltissimo perché avete già uno strumento allora questo può essere sicuramente integrato è chiaro che la ricerca applicata cioè la ricerca che non parte da una concezione diciamo centralizzata nel luogo dell'elaborazione ma che si trasforma si evolve con il contatto con l'esigenza del territorio è quella ricerca che riesce a dare questi risultati voglio dire noi parliamo di alimurgia possiamo tranquillamente in primavera perché adesso non è che si riescono a riconoscere le varietà le varietà vengono riconosciute nel periodo della produzione di fiori anche se noi in Puglia stiamo avendo con questi cambiamenti climatici due primavere quindi anche l'autunno fino a dicembre abbiamo visto che c'era vegetazione potrebbe essere interessante organizzare un'esplorazione nel periodo primaverile con persone che hanno capacità sia di esperienza facevo l'esempio di questa raccoglitrice sia persone che si occupano ricercatori che si occupano della biodiversità botanici che si occupano della biodiversità e quindi fare un lavoro di esplorazione nel territorio questo potrebbe essere un esempio ovviamente quale può essere la start-up una squadra di esploratori raccoglitori che sono consapevoli del territorio e sanno come muoversi come per esempio ci può essere anche l'impostazione di un laboratorio fitoterapico l'inizio di un laboratorio fitoterapico la definizione voi che avete per esempio mi viene in mente avete l'esperienza di queste spezzerie la spezzeria che sta alla cavallerizza che poi diciamo quella la potete riempire di contenuti perché potreste incominciare a immaginare un laboratorio di produzione di fitocomplessi guardate che è una se considerate che magari da noi non sono ancora utilizzati ma sarebbe auspicabile che lo fossero ma in Germania in Francia sono è una produzione che viene utilizzata tradizionalmente sapete che potenziale c'è anche nell'internazionalizzazione incominciare ad avere i lavoratori di fitocomplessi di fitoderivati di gemmoderivati ci sono tutta una serie di variabili che poi adesso non voglio entrare che può essere tranquillamente esportata come per esempio anche la produzione di piatti pronti con queste varietà particolari c'è un'azienda di monopoli che si è specializzata nel fave cicoria nel boccaccio di vetro cioè se voi andate in a Bari spesso capita in centro c'è uno spaccio tu vedi impiegati di banca questo genere che vanno là prendono il boccaccio probabilmente sono dotati anche di microonde e si fanno il fave cicoria spendendo una fesseria in un prodotto che è conservato infatti voi avete il vantaggio di avere i tocchi di Puglia che tra l'altro sicuramente fa scuola quindi io queste le vedo come opportunità che poi voglio dire non è che possono essere replicate o replicabili in altri territori cioè dov'è che deve andare a fare queste cose qua noi abbiamo questa possibilità di farlo e quindi le vedo come opportunità di lavoro sento parlare di medicina omiopatica quindi ha a che fare molto con questo è fatto sempre con queste erbe allora io non voglio entrare nel merito perché l'omiopatia è stata riconosciuta come forma di medicina complementare la Toscana ha una legge regionale sulla medicina complementare che consente il parziale riconoscimento mi sembra il parziale riconoscimento delle cure anche omiopatiche dal servizio sanitario quindi voglio dire ha avuto una dignità e ha una dignità anche nei paesi che citavo prima in Germania Francia roba omiopatia però attenzione no 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 non ci sono contrasti nel senso che io cioè se l'omiopatia riesce a darmi un risultato nel benessere della persona come è successo viene riconosciuta però dal punto di vista scientifico al momento non ci sono strumenti che possono analizzare qual è l'essenza di un prodotto omiopatico voi sapete che l'omiopatia si basa su una diluizione all'ennesima potenza quasi la sparizione cioè quasi sparisce la sostanza attiva allora dal punto di vista scientifico io parlo di scientifico non chiaramente un approccio dogmatico cioè la scienza si deve basare sulla possibilità di avere dei riscontri oggettivi e che siano replicabili da quel punto di vista l'omiopatia è difficilmente classificabile a differenza della fitoterapia cioè nella fitoterapia abbiamo scoperto che il decotto di artemisia annua ha un effetto migliore sulle cellule in vitro col plasmodio della malaria rispetto all'artemisinina beh quello è già un riscontro scientifico oppure altri tipo altri tipi di fitocomplessi le caratteristiche antisettiche del rosmarino le caratteristiche antisettiche del timo e quelli sono comunque dei riscontri oggettivi ma addirittura io ieri parlavo in un incontro che abbiamo fatto con un ricercatore nel settore della nutrizione la steatosi epatica cioè la presenza di grasso nel fegato che deriva da insulti cioè da stress del fegato è stato dimostrato a ricerche scientifiche che riesce a essere curata con la fitoterapia con i decotti allora siccome la medicina farmaceutica si basa su quell'origine cioè noi sostanzialmente la farmacopea su quello si basa l'origine della farmacopea era quello e siccome adesso però abbiamo gli strumenti oggettivi per poter analizzare i prodotti fitocomplessi quindi decotti le tinture madre e compagnia noi siamo in grado di poter classificare e dare un valore scientifico a questa realtà allora facciamo un'ipotesi una simulazione di un'ipotesi imprenditoriale noi abbiamo un territorio che è splendido abbiamo tante masserie abbiamo questa possibilità di valorizzare la biodiversità locale abbiamo una cultura alimentare antica quindi possiamo dire che nessuno ci deve insegnare niente ci insegnano i nostri nonni i nostri avi si può immaginare un turismo della salute? certo che si può immaginare un turismo della salute un turismo dove magari in una masseria come questa si ospitano delle persone che possono partendo dall'esigenza di essere intolleranti vogliono conoscere perché come la masseria produce il latte di asina però si può anche dire a queste persone guardate vi organizziamo dei seminari sulle abitudini alimentari organizziamo delle diete cioè tu devi stare qua in masseria ma devi mangiare quello che ti dico io e ti insegno anche come mangiare io agisco direttamente sui comportamenti cioè ci sono molte probabilità che le persone che ritornano a casa non hanno più la difficoltà di stare a seguire la tabella delle diete e roba va l'ha fatto gliel'hai spiegato ha mangiato torna a casa è più semplice che riprende a fare quello che deve fare magari riesce a comprare anche a distanza i prodotti perché l'altro vantaggio che noi abbiamo rispetto al discorso della distribuzione che facevamo prima e che molti stanno incominciando a utilizzare è l'e-commerce allora guardate l'e-commerce può essere rivoluzionario perché a me che cosa serve serve un buon sito internet chiaramente l'investimento non è un investimento piccolo è un investimento che può essere anche paragonabile a quello che può essere un investimento di un negozio di un punto a vendita perché ci sono tutta una serie di c'è un bel lavoro da fare dietro a questo sito internet però io metto a disposizione si può dire un kit con tutta una serie di prodotti chiaramente conservabili non deperibili che viene gestito neanche da me ma viene gestito in uno spedizioniere adesso se io porto affitto un metro quadro una stanza come questa un apposizionamento di bancali in uno spedizioniere un supporto di logistica lo metto là basta che io vengo qua faccio le vacanze che bello mangio bene roba male vado a Berlino torno a casa mia a Berlino ma io ho nostalgia di mangiare quel piatto di pasta fatto con quelle cose là con le cose di tocchi di Puglia giusto allora che faccio vado su internet trovo il sito internet ordino il kit pago in anticipo quindi voglio dire io che ho diciamo questo prodotto non devo stare neanche a pensare di dover anticipare i soldi per la spedizione pago in anticipo nel momento in cui ho pagato automaticamente la mia pedana portata a Taranto a Bari dove volete voi anche qui si potrebbe fare una logistica prende il pacco e lo spedisce a Berlino questi giorni stiamo facendo un esperimento a Ginusa c'è un negozio che vende prodotti per gli intolleranti ed è nata questa idea siccome che ci sono gli studenti universitari a Torino a Milano da questi giorni metteremo sull'e-commerce che io ho già creato questi prodotti qua in modo che questi qua li passa anche l'ASL però lo studente che sta a Milano a Torino deve poterli comprare anche stando a Milano a Torino allora dal negozio mi sta preparando una decina di prodotti lo inserisco già questi giorni e lo studente che sta a Milano a Torino potrà comprare già dalla prossima settimana perché lui deve comprare per forza quei prodotti siccome che ha la tessera sanitaria a parte di Taranto Taranto 1 non so non so com'è la cosa forse lui ha la tessera per forza comprare da Ginosa e lo può comprare da Ginosa stando a Milano si si no ma voglio dire si possono trovare questo è interessantissimo lo stiamo perfezionando questi giorni no è interessante certo e voglio dire noi possiamo trovare tante forme di idee imprenditoriali che sostanzialmente hanno una caratteristica di essere sostenibili voi considerate anche il discorso di ritorno sulla cura fitoterapia qual è l'altro vantaggio che io legata alla cultura dell'alimentazione mediterranea alla valorizzazione della biodiversità qual è l'altro vantaggio è che io curo le persone senza dover importare medicina le medicine che noi utilizziamo per chi è malato e mica vengono prodotte qua sono tutte importate mentre quel valore aggiunto che riguarda la cura io lo investo sul territorio cioè io spendo la spesa sanitaria poi diventa una partita di giro nel territorio allora voglio dire è una buona idea imprenditoriale e che tra l'altro è sostenibile perché io non è che devo fare un impianto industriale il laboratorio fitoterapico sostanzialmente non ha bisogno di investimenti è chiaro che c'è un grande investimento nel know-how un grande investimento nella conoscenza non è una cosa che si può improvvisare da un giorno all'altro però è fattibile ecco vedete come il discorso della biodiversità poi ritorna cioè noi siamo partiti dalla famiglia nomade che raccoglieva abbiamo fatto un lungo escursus pratico stiamo ritornando senza negare però i vantaggi dell'agricoltura stiamo ritornando a una rivalutazione di questo tipo di conoscenza perché chiaramente un tipo di conoscenza molto elevato ovviamente non voglio entrare nel merito delle diete del tipo di dieta poi ci sono leggevo mi faceva leggere un mio amico su un quotidiano un articolo molto interessante che poi alla fine noi stiamo incominciando a cadere nei tranelli delle gastrosofie di tutta una serie di suggestioni dal punto di vista dell'alimentazione che poi alla fine non hanno né una valenza storica né una valenza salutistica io non voglio chiaramente quello che però posso dirvi con certezza che la dieta alimentare comportamento alimentare la dieta alimentare mediterranea è lo studio fatto da Campbell sulla dieta alimentare cinese il China Study e il Seven Country Study di Anselkis partito da Anselkis sono i due pilastri fondamentali sui quali si basa la medicina del futuro la medicina del futuro per il trattamento della prevenzione dei tumori di roba male parte di tutte le malattie parte dallo studio del cambiamento dei comportamenti alimentari quindi questa cosa non la dimentichiamo anche dal punto di vista curativo ve l'ho detto mi hanno parlato chiaramente io mi occupo di produzione primaria mi occupo anche di gastronomia ma lo faccio per passione perché diciamo ci sono varie figure che hanno però persone che si occupano dell'epidemiologia nutrizionale hanno detto che oramai ci sono lavori consolidati quindi con impact factor cioè lavori referenziati seri che dimostrano anche la regressione di tumori di metastasi sulla base di una diversificazione dei comportamenti alimentari quindi questo diciamo è un po' oh ci sono altre domande perché qualche allora io quello che vi volevo dire adesso con la mailing list al limite io la giro a te tu poi la mandi a tutti in mando il link di questo libro che purtroppo la regione ha finito questo è un libro pubblicato nel 2013 dall'assessorato all'agricoltura però è presente il link su un sito consultabile il libro perché lo stesso dicasi per l'attante i prodotti tipici mediterranei dell'oliam in questo è un approccio sulla biodiversità specifica pugliese questo sulla sulla biodiversità legata ai prodotti e anche alla gastronomia molto interessante questo è veramente una realtà questo in pdf ve lo darò perché insomma è importante divulgarlo questo lavoro molto interessante sulla dieta mediterranea in Puglia no 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 cioè guardate questo purtroppo è una delle poche copie che sono disponibili questa è una copia fatta omaggio però diciamo uno dei curatori mi ha dato il pdf proprio per aumentare la diffusione ma io oramai guardate molti molti pdf non li stampo neanche più perché me li leggo sul tablet anche per un fatto di sostenibilità non ha senso stampare carta se posso consultare anzi sul tablet o la possibilità su computer di fare ricerche con keyword poi c'era questo che se vogliamo è più di un approccio culturale perché slow food ha avuto questo grande merito però chiaramente limitandosi a un discorso di interesse culturale nella riscoperta dei panni degli alimenti della tradizione beh questa è una guida molto importante sul pane di qualche anno fa vi dico che cita il pane di La Terza ovviamente come pane locale il discorso diciamo la sfida più interessante è quella di trasferire diciamo l'innovazione nella reintroduzione delle varietà antiche dobbiamo recuperare le varietà antiche sicuramente un interesse in questo senso anche se quest'anno volevamo partire con una sperimentazione in campo ma purtroppo per vari motivi di fornitura del seme non ci siamo riusciti però voi l'avete qua in zona perché il mulino di Bon Germino sta facendo un lavoro di studio applicato anche il fatto di avere sul territorio io lo dico anche come appeal territoriale una filiera intera che va dal mulino dalla produzione del grano mulino e panificio è molto importante chiaramente ci impegneremo per l'anno prossimo per fare una sperimentazione ma penso che Bon Germino quest'anno stiano continuando a fare una sperimentazione comunque sulle varietà di grano reperite sì certo è che quello che suggerirei perché io tra l'altro avevo portato qua questo lo posso anche girare come pdf c'è un articolo proprio sul pane c'è un articolo interessante che mi ha suggerito Salvatore Ceccarelli che ho contattato insomma e sulla molitura sui mulini giusto per introdurre questo dal punto di vista del concetto noi oramai ci siamo abituati dal dopoguerra in poi a utilizzare soprattutto per il pane la farina doppio zero cioè una farina raffinata la farina raffinata in realtà più che essere un alimento è quasi un veleno perché è una farina che non avendo la presenza diciamo dell'intera macinatura del grano porta a un impatto come indice glicemico elevatissimo quindi se mangio un panino pane bianco o dei picchi iperglicemici che sono propedeutici anche all'insorgenza dei tumori cioè l'iperglicemia uno studio che è stato fatto uno dei tanti studi che è stato fatto porta a un intervento dell'insulina l'intervento dell'insulina che ha un'azione distruttiva non fa altro che creare delle condizioni affinché ci possa essere insorgenza dei tumori questo è quanto sostiene l'istituto tumori di Milano Franco Berrino che tra l'altro se vi interessa è anche interessante vedersi un po' le trattazioni di Franco Berrino su Youtube insomma oramai i mezzi di comunicazione media e social media sono evoluti al punto che queste cose ve le potete sentire direttamente dire da Franco Berrino allora è molto importante recuperare quella che è la tradizione della molitura di una volta una molitura fatta con macine in pietra che riescono a non stressare il grano e soprattutto con molitura mulini che garantiscono la presenza delle fibre cioè garantiscono la presenza del grano addirittura si arriva si può arrivare anche a livelli di tali che si vendono in Germania sono molto diffusi anche questi mulini cioè recupero della vendita dei mulini in pietra chiaramente si possono produrre piccole quantità di farina però sono anche presenti i mulini domestici per esempio vi faccio vedere una pubblicità c'è lo schermo è ovvio che questo è un discorso estremamente spinto da questo punto di vista però posso anche immaginare giusto per dire un'azienda un'azienda agrituristica che vuol fare un determinato tipo di ragionamento che si dota di un micromulino stocca i cereali prima si faceva così non è che si faceva la farina per tutto l'anno se avevano i cereali il grano qua non c'era bisogno della farina si immaginava si portava macinava la salina con la pietra con le macine a mano si aspettava qualche giorno perché generalmente la farina ha bisogno di essere ossidata cioè non può essere utilizzata almeno secondo la tradizione poi si panificava allora questo tipo di pani derivati da questo tipo di lavorazione anche soprattutto da questo come dicevo questi mix di varissime varie diverse varietà di grani coltivati insieme ha delle capacità ha delle problemi di tutto dalle caratteristiche dal punto di vista alimentare eccezionale anche dei sapori ed è un aroma molto molto interessante da questo punto di vista la panificazione viene fatta con lieviti autottoni quindi con lievito madre diciamo il lievito di birra è un artefatto è una forzatura che a volte viene anche utilizzato da chi utilizza la pasta acida e il lievito madre per aiutare nel processo industriale però non deve essere mai in una concentrazione elevata però il vantaggio è anche quello che io riesco a fare la pasta madre con la pasta acida che era la caratteristica della nostra tradizione culturale che è una fermentazione una fermentazione della farina con l'acqua con lieviti che sono autottoni cioè lieviti che stanno qua non sono i lieviti che stanno in Germania per intenderci sono si passava a casa per casa cioè io facevo la pasta madre facevo il pane lo portava al forno e poi si dava si dava l'amico e alla fine quella pasta madre circolava e ritornava a noi cioè ritornava alla famiglia un'altra cosa interessante da lanciare come piccola provocazione che però non lo è perché poi anche è la riscoperta di una delle bevande alcoliche ludiche ancora più antiche del vino che è il pane liquido il pane liquido che cos'è? è la birra cioè noi abbiamo la possibilità in questo territorio di iniziare molti lo stanno già incominciando a farlo lavorare sulla produzione di birre autoctone birre da orzo da orzo autoctono birre da orzi ceccarelli ha anche fatto circolare mix di orzo di varietà antiche perché nell'antichità dal Neolitico in poi in Egitto roba varia la bevanda alcolica la bevanda ludica che è anche nutritiva non era il vino il vino è stato introdotto indubbiamente nel Mediterraneo ma c'era la birra erano questi fermentati da farina viene chiamata il pane liquido perché il pane è un fermentato la birra è un fermentato questo si sta pian piano diffondendo soprattutto nella zona della murgia ci sono delle realtà che stanno di anno in anno migliorando questo tipo di produzione di birra con malti coltivati cioè con orzo malto derivato da orzo coltivato sulla murgia è maltato a Melfi a Melfi c'è un stabilimento di maltazione maltificio quindi questa è un'altra delle opportunità che noi abbiamo chiaramente ci possiamo divertire a fare vari tipi di birra diciamo una delle birre che potrebbe andare bene per i nostri territori è la Weiss Beer cioè una birra con una percentuale di malto di grano l'orzo è fondamentale perché ha degli enzimi particolari per produrre la birra c'è qualcuno che sta lavorando in Basilicata su una birra di farro che ha delle caratteristiche il farro ha delle caratteristiche simili a quelle dell'orzo però io vi dico anche come sviluppo di una filiera adattato qua di cereali di luoghi cioè di territori di terreni dove coltivare cereali ce n'è abbondanza e io quello che suggerirei è anche la reintroduzione dell'orzo perché per fare un esempio la frisa ad orzo leccese che poi si può replicare anche qua è un alimento con una grande capacità che noi stiamo studiando di nutrizionale anche di abbattimento dell'indice glicemico cioè la frisa ad orzo ha l'ideale per anche per alimentare un diabetico anche il come la frisa ad orzo sì magari con la frisa ad orzo o con la madonea con quella di qua due minimo sì però perché è più ma questo è legato anche molto al discorso delle mandorle di prima cioè da un senso di sazietà sì ma io di fatti quello che dico un alimento che è completo per noi potrebbe essere tranquillamente un pane come la frisa ad orzo con un filo d'olio cioè questi non sono alimenti che comunque oppure per esempio un'altra sperimentazione che si sta facendo è la produzione di pasta con sparinati di legumi e sparinati di cereali qual è il vantaggio il vantaggio io l'ho assaggiato è una pasta che è gustosa come la pasta normale ma qual è il vantaggio che io posso nutrendomi con una pasta che ha una percentuale di sparinati di ceci ho molte proteine che assumo direttamente dalla pasta e poi ho un basso indice glicemico perché la presenza di proteine con i carboidrati mi consente un'assimilazione graduale il fatto di non avere questi picchi per glicemici e questa è una sperimentazione che si sta facendo anche che può essere trasferita nell'ambito di quella che è una filiera allora io quello che dico tutto quello che stiamo studiando e che può essere facilmente riportato perché ve l'ho detto io a differenza forse di chi è venuto precedentemente chi verrà sto qui sul territorio stiamo qui anzi io rappresento non sono solamente io perché non ce la farei rappresento una squadra anche molto appassionata dei ricercatori esperti robavare siamo sul territorio e la possibilità di ipotizzare una filiera della produzione di alimenti della produzione di ospitalità della produzione una filiera del benessere cioè qua bisogna incominciare a ragionare non solo sull'agriturismo bello ma l'agriturismo che sia portatore di benessere benessere tutela della salute e questo vi assicuro che siamo in grado anche con le strutture che sono presenti sul territorio di farlo quindi tramite questo contatto diretto che noi abbiamo con i comuni che stanno incominciando a comprendere l'importanza del loro ruolo da protagonisti nell'educazione alimentare nello sviluppo questo sviluppo che è il vero sviluppo sostenibile perché non è un turismo d'assalto non sarà noi ci ospitiamo non potrebbe essere un turismo d'assalto ma un turismo di cultura di approfondimento gastronomico con una gastronomia che non è soltanto piacere perché questi cibi non sono piacevoli cioè il piacere che si ha nel mangiare questo tipo di nutrizioni di questa alimentazione sarebbe per dire che un piacere archetipico forse anche più forte più intenso di quello che è un cibo molto elaborato di quello che è un cibo elaborato con vantaggio però che questa alimentazione questa abitudine alimentare che oramai ha una ricerca consolidata da più di 60 anni garantisce che cosa? garantisce il benessere e la salute aspetto no? no niente abbiamo parlato dei vari prodotti tipici legati ai diversi ambienti anche della PIR però mi stavo chiedendo riguardo al miele per esempio esiste già uno studio su mieli tipici legati soprattutto a vegetazioni spontanee che non sia miele d'arancia ovviamente di altri monoflore di altri cioè di coltivazioni quindi io personalmente non sono esperto cioè si potrebbe fare un rapprofondimento con chi si occupa o a veterinario o a etomologia di questo tipo di sì sicuramente c'è la produzione sicuramente c'è chi si sta specializzando con la produzione di mille mille fiori derivato dalla presenza di arnie in zona murgiana e quindi con una caratteristica di presenza di essenze di una biodiversità che riesce a dare delle caratteristiche particolari se vogliamo possiamo anche in seguito a prescindere dall'esperienza del laboratorio dal basso approfondire informarci su quelle che sono le esperienze specifiche e sicuramente una esperienza di questo genere è presente nell'ambito del parco nazionale dell'altamurgia quindi anche domani possiamo diffondere certo è importante però sottolineare sicuramente ha un'importanza notevole chiaro dobbiamo intenderci la presenza della cioè investire in apicoltura vuol dire investire in un territorio sano dal punto di vista non contaminato incontaminato faccio un esempio voi state seguendo il problema che si sta avendo nell'eccese su questo disseccamento rapido degli ulivi che è attribuito alla xylella a torto a ragione perché anche su quello è controverso perché poi alla fine noi parliamo di scienza ma molte volte anche i nostri docenti universitari si dimenticano che cosa vuol dire effettivamente la scienza allora non sappiamo se quelle piante disseccano per i funghi o per la xylella la xylella non ha avuto ancora un test di patogenicità se devo sapere se è la xylella perché io trovo sempre un mix di concause sta di fatto che per approssimazione per la fretta per la paura di avere problemi con l'Unione Europea uno dei rimedi che ritengono opportuno applicare per controllare la diffusione di questo patogeno da quarantena è l'utilizzo dei pesticidi quando? nel periodo dell'impollinazione perché poi alla fine il ciclo biologico della sputachina questo nome di questo insetto che oggettivamente è stato ritrovato come vettore c'è la presenza di questa sputachina che ha all'interno del suo organismo in questo apparato succhiante la presenza di questi batteri il ciclo è legato a un utilizzo di pesticidi nel periodo dell'impollinazione allora che cosa è successo? che questo tipo di tentativo di cura o di prevenzione si scontra questo è anche il limite di un approccio scientifico troppo settorializzato cioè io vado ad andare come un caprone contro un problema e ne sto guastando altri ma non sono io a dirlo è l'ente scientifico che si occupa della tutela degli alimenti l'EFSA europeo la sede a Parma che in un rapporto scrive guardate che la proposta fatta in Puglia non ha senso perché rischierebbe di creare problemi negli insetti impollinatori e soprattutto creare un documento dal punto di vista della salute umana voi immaginate un territorio dove di colpo si incomincia a trattare nel periodo primaverile con trattamenti con pesticidi a tappeto dove ogni agricoltore ha l'obbligo perché quella è l'otto obbligatore quindi paradossalmente se non lo fai sei anche passibile di sanzione come è successo in Francia quel poveretto non è che è stata una non è che è stata una è la lotta obbligatoria è la lotta obbligatoria cioè la devi fare per legge chiaramente devi discutere se ha senso fare di un determinato tipo una lotta obbligatoria e come farlo ma quello non è che è stato ingiustamente quello è stato multato perché non ha ottemperato un obbligo di legge ora che cosa voglio dire il discorso dell'apicoltura è molto delicato perché poi alla fine devi fare un territorio incontaminato allora ritornando al ragionamento che facevamo prima il parco nazionale dell'Altamurgia che nell'ambito del piano di gestione prevede essendo un parco nazionale la tutela una tutela o una garanzia di tutela territoriale è un luogo che sicuramente può dare maggiore garanzia ecco perché oltre alla carta europea del turismo sostenibile adesso sta partendo anche se con un po' un po' lentamente sta partendo l'idea di costituire i prodotti del parco allora che cosa voglio dire che senso ha questo ragionamento trasferendolo in questo territorio io non so bene qua c'è comunque un vantaggio potenziale di attivare il parco regionale delle gravine allora sul parco regionale delle gravine attivarlo vuol dire avviarlo piano di gestione trovare i capofila però quello è un investimento che sicuramente col CEA va fatto lavorare su uno sviluppo territoriale in questo senso perché voi avete più da guadagnare con l'attivazione di un parco che non assecondando le resistenze di qualcuno che magari non lo vuole il parco però non sa che sviluppo alternativo offrire però ripeto sulla apicoltura bisogna avere molta cautela con i tempi dello streaming possiamo affermare che quindi la famosa dieta mediterranea segue tutto sommato una linea vegana sì allora questo lo posso dire con no 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 questo lo posso dire senza timore di essere smentito perché sicuramente sicuramente vegetariana sicuramente vegetariana perché diciamo c'è qualche passaggio nella dieta mediterranea però ripeto quella che è stata definita e caratterizzata era l'alimentazione di queste popolazioni partendo dall'esperienza di Ansel Keys in appollica però poi allargando in tutto quanto il bacino mediterraneo da popolazioni che si nutrivano prevalentemente di proteine vegetali quello che è il derivato dello studio sulla dieta mediterranea posso dire che ha può rispondere alla domanda positivamente perché parlando con diversi nutrizionisti mi sento in un giorno di qua è inutile che giriamo attorno ma se uno dovesse decidere di alimentarsi essenzialmente con proteine vegetali sicuramente non non ha un deterimento fisico e sicuramente ha una tutela del proprio organismo allora da quel punto di vista è una questione di cambiamento di abitudini di consuetudini cambiamento di economia io però quello che voglio dire senza arrivare alla sono scelte che si fanno quello che sicuramente si può dire che un'alimentazione sana se mantiene il consumo di carne animale cioè di alimentazione animale entro una determinata quantità rientra pienamente nella dieta mediterranea rientra pienamente in una gestione diciamo sostenibile del territorio ma anche ha un approccio utile dal punto di vista della salute quindi per intenderci la dieta mediterranea prevede l'utilizzo di proteine animali no? quello che però è stato considerato che anche se dovessimo arrivare alla scelta vegana sicuramente si hanno dei vantaggi dal punto di vista alimentare si hanno dei vantaggi dal punto di vista della tutela della salute va bene salutiamo vi invitiamo tutti all'appuntamento di domani che sarà con la tematica Ecomusei e Gravina proprio per capire magari le possibilità di sviluppo di un eventuale Ecomuseio legato al nostro territorio e quindi alla Gravina e se può esserci economia soprattutto diciamo per noi ragazzi a domani arrivederci grazie 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 a